Ma veramente dobbiamo fare il video delle uscite? Certo, l'altra volta è piaciuto tantissimo. Voi che ne pensate? Sì! Che entusiasmo, partiamo dai! Sì! Grazie a tutti. Grazie a tutti. È stato caratteristico, adesso facciamo un giro di piazza ad Acquaro e poi direttamente ad Arena dove vedremo il castello perché noi stiamo facendo appunto tutti i castelli della Calabria, abbiamo visto il castello Aragonese di Reggio, il castello... Giusto adesso doveva suonare il telefono, ci vediamo dopo. Ciao Roberto. C'è telefonato mentre stavamo parlando, vabbè siamo ad Acquaro adesso, siamo arrivati ad Acquaro, giro di piazza veloce e poi proseguiamo verso Arena. Stiamo facendo il giro dei castelli calabresi, abbiamo visto il castello Aragonese di Reggio, il castello Aragonese di Pizzo, di Pizzo Calabro, abbiamo visto il castello di Cleto e Savuto. Insomma abbiamo visto tanti castelli ma i castelli in Calabria sono tantissimi e adesso vedremo quello tra un po' più tardi, quello di Arena. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok siamo rientrati a Gioia Tauro, è andata bene, abbiamo fatto tante fotografie, nei prossimi giorni cercheremo di pubblicare qualcosa, adesso gli altri li ho accompagnati a casa, adesso vado a casa anch'io perché non ci vedo più dalla fame. Alla prossima!